Il 10 di aprile parte anche il campionato Disabili Lombardia, quindi insomma un'importante manifestazione che vede coinvolte tutte le province della Lombardia e Varese si troverà a gareggiare nel girone che possiamo definire dell'Interland milanese, vero? Perfetto. Ed appunto anche in questo caso un po' come si svolgerà, quali sono le peculiarità? Teoricamente si svolgerà con due partite e due incontri individuali e due incontri in coppia. Alla fine di questo incontro verrà spedito a Milano dove in pratica nel proseguo, finito il girone dell'andata, il girone di ritorno, al mese di settembre faremo le finali al centro tecnico di Bergamo dove ci troveremo in quattro formazioni e ci sfideremo alla finale eccetera eccetera. Certo, bello appunto che si ritorni a fare dei campionati anche diciamo a livello regionale, non si giochi soltanto a livello locale, questo va anche a stimolare immagino i ragazzi perché incontrano degli atleti diversi. Sì, in pratica sì, poi si aggregano, si conoscono, si fanno amicizia ed è molto bello quando si trovano perché sembra di ritornare in famiglia e per noi è una grossa soddisfazione, sia che per me che sia che il mio responsabile. Certo, arriviamo da un periodo molto difficile purtroppo, quindi dagli anni della pandemia che hanno bloccato anche le attività sportive purtroppo appunto per molto tempo. Ne abbiamo già parlato per quanto riguarda le bocce dei normodotati, ovviamente questo discorso riguarda anche la disabilità. È stato difficile e non lo chiedo a caso a lei che è l'allenatore, il tecnico sportivo, quindi sta sempre a contatto con i ragazzi, è stato difficile riabituarli ai ritmi degli allenamenti, delle attività, dello sport anche proprio all'incontro? Sì, un pochino sì. Poi ad agio d'agio siccome sono, devo dire, molto abbastanza intelligenti di riuscire a capire che in pratica quello che è passato è passato. Adesso ricominciamo da capo e rimettiamo in ordine le nostre attività. Così possiamo farli divertire e divertire anche noi.